Primavera è un dipinto di Sandro Botticelli, databile tra il 1478 e il 1482 circa, tempera su tavola di 207 x 319 cm, conservato presso la Galleria degli Uffizi a Firenze. È considerato il capolavoro di Botticelli, nonché una delle opere più famose del Rinascimento italiano. Inizialmente collocato nel palazzo Medici Riccardi di Via Larga, oggi Via Cavour, il dipinto viene successivamente trasferito nella villa medicea di Castello, presso Firenze, dove il Vasari riferisce di averlo visto nel 1550, accanto all'altra celeberrima opera di Botticelli, Nascita di Venere. Il titolo con cui è universalmente conosciuto questo dipinto, quindi Primavera, deriva proprio da un'annotazione del Vasari che recita così, aperte virgolette, Venere che le grazie fioriscono dinotando Primavera, chiuse le virgolette, e dalla quale, annotazione, scaturiscono le linee cardine su cui si fondano tutti i tentativi di interpretazione. Nel 1853 l'opera viene trasferita alla Galleria dell'Accademia affinché potesse essere studiata dai giovani artisti che frequentavano la scuola. Nel 1919 viene poi spostata agli uffizi. Bene, descriviamo adesso il dipinto. Allora, in un boschetto ombroso di aranci, colmi di frutti, che formano una sorta di semicupola, qui, sullo sfondo di un cielo azzurrino, che vediamo qui tra gli arbusti e tra i tronchi degli alberi, ecco, in questo boschetto ombroso sono disposti nove personaggi in una composizione che i critici definiscono molto bilanciata e che è sostanzialmente simmetrica attorno alla figura centrale, questa. una donna con un drappo rosso e verde, che è quindi rosso qui e verde all'interno, che copre questo drappo in parte la sua veste leggera e di colore chiaro, eccola qui. Il suolo è composto da un prato verde disseminato da una folta vegetazione e da molti tipi di fiori che possiamo riconoscere. Quindi, guardandoli attentamente, possiamo vedere che si tratta di, non ti scordare di me, iris, fiordaliso, ranuncolo, papavero, margherita, viola e gelsomino. Secondo una teoria ampiamente condivisa, l'opera va letta da destra verso sinistra, quindi da qui in questa direzione, quindi da destra verso sinistra per chi osserva. Molto probabilmente perché la collocazione dell'opera stessa imponeva una visione preferenziale da destra, molto probabilmente l'ingresso da dove entravano gli osservatori, quindi entrando dall'ingresso ci si trovava appunto quest'opera sulla destra, quindi naturalmente la visione era da qui in questa direzione. Quindi, sulla destra, eccolo qui, vediamo Zefiro, qui, vento di sud-ovest e di primavera che piega gli alberi, e vediamo qui gli alberi piegati, innamorato della ninfa Chlori, questa è la ninfa Chlori, o Chloride, la rapisce appunto secondo la mitologia greca e la mette incinta da questo atto. Chlori si trasforma e rinasce come Flora, eccolo qui, questa è Flora. Il personaggio appunto alla sinistra di Chlori, che è la personificazione della primavera rappresentata come una donna dallo splendido abito fiorito che sparge a terra le infiorescenze che tiene in grembo. Ecco, qui ci sono delle infiorescenze e appunto le spande in terra. Segno della trasformazione di Chlori è anche il filo di fiori che esce dalla sua bocca e che si muove verso Flora, e lo vediamo meglio qui in questo dettaglio. Ecco, questo è Zefiro, appunto il vento con le guance rigonfie a soffiare, e poi appunto questo filo di fiori che esce dalla bocca di Chlori in direzione appunto di Flora. E rivediamo qui di nuovo l'opera completa. Al centro, come abbiamo detto, c'è Venere, simbolo neoplatonico dell'amore elevato e vediamo quanta importanza avrà il neoplatonismo dell'interpretazione filosofica di quest'opera. Però lo vedremo più avanti. Quindi Venere, inquadrata da una cornice simmetrica di arbusti, eccoli qui gli arbusti da cui si intravede il cielo azzurrino dietro, e appunto la dea sembra sorvegliare e dirigere tutto ciò che le accade intorno. Sopra il suo capo vola il figlio Cupido, mentre a sinistra si trovano le sue tradizionali compagne, le tre grazie, vestite di leggerissimi veli e impegnate in un'armoniosa danza. Le dita intrecciate, eccole qui, qui, qui e qui, e le braccia, che sono in posizioni diverse, quindi in alto, al centro e in basso, danno il senso di un movimento ritmico delle braccia, quindi una sorta di onda che va dall'alto, al centro e al basso, dall'alto, al centro e al basso, come appunto se stessero danzando. Sulla sinistra un disinteressato mercurio, coi tipici calzari alati, eccoli qua, scaccia le nubi con il suo caduceo per preservare un'eterna primavera. Ecco, ricordiamo, e in questa immagine lo vediamo molto meglio, eccola qui, ricordiamo che il caduceo è il classico bastone alato con due serpenti attorcigliati, scusate, intorno ad esso, ecco, questo è un bellissimo disegno, qui si vede un po' meno, ma è appunto un caduceo con cui appunto tiene lontane queste nubi, appunto, che stanno arrivando verso il bosco, ma lui appunto le tiene lontane. Mercurio, chi è Mercurio? Ricordiamo che nella mitologia greca Mercurio, o Hermes, è il figlio di Zeus e della ninfa Maya, ed era il messaggero degli dèi, quindi calzari alati, Dio protettore dei viaggi e dei viaggiatori, della comunicazione, ma anche dell'inganno, dei ladri, dei truffatori, dei bugiardi e della divinazione. Tra gli altri ruoli, Hermes era anche il portatore dei sogni e il conduttore delle anime dei morti negli inferi. Ecco, di grande aiuto affinché Mercurio potesse svolgere tutte queste sue funzioni, erano appunto i suoi calzari alati, che vediamo appunto come Botticelli rappresenta in questo dettaglio. Bene, passiamo adesso alle interpretazioni dell'opera. Come succede per altri grandi capolavori del Rinascimento, anche la Primavera di Botticelli ha vari livelli di lettura. Uno strettamente mitologico, legato quindi semplicemente ai soggetti rappresentati, la cui spiegazione è ormai appurata, ed è appunto quella di cui abbiamo appena parlato. Vi è poi un livello di lettura filosofico, che è legato, come abbiamo accennato pochi minuti fa, alla filosofia dell'Accademia Neoplatonica e ad altre dottrine, poi un livello di lettura storico, legate alle vicende contemporanee, alla creazione del dipinto, e infine uno dinastico, quindi un livello di interpretazione dinastico legato alla gratificazione del committente e della sua famiglia. Bene, abbiamo parlato dell'importanza dell'Accademia Neoplatonica per l'interpretazione filosofica di questo dipinto, quindi ricordiamo che si tratta di un'istituzione culturale fondata a Firenze nel 1462 da Marsilio Ficino, su incarico di Cosimo de' Medici, con sede nella Villa Le Fontanelle e successivamente spostatasi nella più nota Villa Medicea di Careggi. Infatti, questa istituzione è anche conosciuta come Accademia di Careggi. La lettura filosofica storica e quella legata al committente sono controverse e ad oggi non si può dire che studiosi e storici dell'arte abbiano raggiunto un'opinione condivisa o completamente condivisa in merito. Iniziamo con la lettura legata al committente. Una prima serie di interpretazioni lega i personaggi mitologici presenti nel dipinto a individui fiorentini dell'epoca, celebrati nell'opera tramite rappresentazioni simboliche delle loro virtù. Secondo la studiosa Mirella Levi d'Ancona, nasce questa studiosa nel 1919 e muore nel 2014, la primavera sarebbe stata inizialmente commissionata da Giuliano De Medici in occasione della nascita del figlio Giulio, futuro Papa Clemente VII, figlio che Giuliano aveva avuto con l'amante Fioretta Gorini e che poi avrebbe sposato in gran segreto nel 1478. Giuliano però morirà nella congiura dei pazzi, riordita contro il fratello Lorenzo il Magnifico in quello stesso anno, quindi sempre nel 1478, un mese prima della nascita di suo figlio. E quindi il quadro, che in quel momento era ancora incompiuto, viene poi, diciamo così, riciclato dal cugino, Lorenzo di Pierfrancesco De Medici, quattro anni più tardi, in occasione delle sue nozze con Semiramide Appiani, facendo inserire il suo ritratto e quello della moglie appunto nel dipinto. Secondo questa interpretazione, Venere rappresenterebbe Fioretta Gorini, quindi l'amante di Giuliano De Medici nella prima versione dell'opera e successivamente l'amore universale. Universale, scusate. Mercurio rappresenterebbe Lorenzo di Pierfrancesco De Medici, quindi siamo nella seconda versione. Le tre grazie, invece, rappresenterebbero l'amore humanus, cioè quello spirituale, puro, elevato, secondo i principi dell'umanesimo platonico. In particolare, la grazia al centro ha le sembianze di Semiramide Appiani, moglie appunto di Lorenzo di Pierfrancesco De Medici, quindi siamo qui nella seconda versione. Zefiro, Cloris e Flora, che vediamo in questo dettaglio, quindi Zefiro, Cloris e infine Flora, rappresenterebbero invece l'amore ferinus, cioè l'amore carnale. I fiori presenti nella scena alluderebbero a vari significati matrimoniali, quindi abbiamo fiordalisi, margherite e, non ti scordar di me, che alludono alla donna amata, mentre i fiori d'arancio sugli alberi sono ancora oggi un simbolo di felicità matrimoniale. Analizzando altri ritratti dipinti da Botticelli o da altri artisti della sua cerchia, nei vari protagonisti della rappresentazione sono stati individuati vari personaggi di Casa Medici, ma si tratta solo di ipotesi. In particolare, nelle Tre Grazie sono state riconosciute Caterina Sforza, a destra, e al centro Simonetta Vespucci, una delle nobildonne più note del Rinascimento, che guarda sognante alla sua sinistra, appunto, verso Mercurio, che sarebbe Giuliano De Medici, che è il committente iniziale dell'opera. Ricordiamo anche che Simonetta Vespucci fu anche il soggetto, l'ispirazione, la donna che sembrerebbe essere la protagonista dell'altra opera importantissima di Botticelli, La nascita di Venere. Bene, passiamo adesso alla lettura storica. Secondo lo storico dell'arte contemporaneo Horst Bredekamp, che nasce nel 1947, l'opera è stata completata dopo il 1485 e rappresenta un'allegoria dell'età medicea, intesa come età dell'oro, ma, appunto, età dell'oro e prospera sotto la guida di Lorenzo di Pierfrancesco e non di Lorenzo il Magnifico, confermando così che era proprio Lorenzo di Pierfrancesco il committente dell'opera stessa. Questa interpretazione riprende la generale tendenza degli storici degli ultimi decenni a smitizzare, in un certo qual modo, la figura di Lorenzo il Magnifico in favore dell'altro ramo della famiglia, che avrebbe avuto una grande importanza all'epoca. Tesi, però, questa che ancora non è stata pienamente verificata dagli storici. La presenza nel dipinto di Flora, secondo questa interpretazione, sarebbe quindi un'allusione a Florenzia, e quindi alle antiche origini della città di Firenze, mentre le altre figure rappresenterebbero città in vario modo, appunto, legate anch'esse a Firenze. Quindi Mercurio sarebbe Milano, Cupido, Roma, le tre grazie potrebbero essere Pisa, Napoli e Genova, mentre Venere sarebbe Venezia. Bene, passiamo adesso alla lettura filosofica. Il primo critico a mettere il dipinto direttamente in relazione con la cerchia di filosofi neoplatonici frequentata da Botticelli è stato Abbie Warburg nel 1893. Successivamente, ricordiamo, sulla stessa linea, l'Accademico e Storico dell'Arte Ernst Gombrich nel 1945, e poi Erwin Panofsky negli anni Sessanta, che addirittura leggono la Primavera come il manifesto, appunto, dell'Accademia Neoplatonica fondata da Marsilio Ficino e, come abbiamo già accennato, conosciuta anche come Accademia di Careggi per via della sua sede nella Villa Medicea di Careggi a Firenze. L'opera, quindi, racconterebbe come l'amore, nelle sue diverse espressioni, arrivi a staccare l'uomo dal mondo terreno per volgerlo a quello spirituale. La scena, quindi, sarebbe ambientata nel Giardino Sacro di Venere che la mitologia colloca nell'isola di Cipro, quindi la figura centrale sembra proprio essere Venere per via, appunto, degli attributi tipici della Dea stessa, ad esempio il cespuglio di Mirto alle sue spalle e lo vediamo, appunto, qui. E anche la presenza di Cupido sopra la sua testa e di Mercurio in funzione di Guardiano del Bosco che, infatti, come abbiamo già detto, tiene in mano un caduceo per scacciare le nubi della pioggia. detto questo, però, è anche bene notare che, insolitamente, dalla sua, diciamo, posizione mitologica, Botticelli, in quest'opera, lo rappresenta in una posizione che lo rende quasi estraneo alla scena. Le tre grazie rappresenterebbero la liberalità, quindi interpretazione classica, mentre la parte più interessante del dipinto è, appunto, costituita dai tre personaggi sulla destra che riguardiamo meglio in questo dettaglio. Eccoli qua, scusate. Bene, quindi, Zephyro, la ninfa Cloris e la dea Flora, divinità della fioritura e della giovinezza, protettrice della fertilità da cui tutto sembrerebbe nascere. Zephyro e Clori rappresenterebbero la forza dell'amore sensuale e irrazionale, che però è anche fonte di vita, infatti, genera Flora. Grazie poi alla mediazione di Venere e di Eros, riguardiamo qui nel quadro intero, quindi, grazie poi alla mediazione di Venere e di Eros, questa nuova vita generata da Flora, si trasforma in un qualcosa di più perfetto, che sono le grazie, appunto, per poi, infine, spiccare il volo verso le sfere celesti, appunto, sotto la guida di Mercurio. Oltre alle teorie filosofiche di Marsidio Ficino, lo ricordiamo, fondatore dell'Accademia Neoplatonica, e la poetica di Poliziano, anche egli membro dell'Accademia, Botticelli si ispira anche alla letteratura classica, ad esempio ad Ovidio e a Lucrezio, soprattutto per quanto riguarda la metamorfosi di Cloris in Flora. Il centro focale della composizione comunque è e rimane Venere, che rappresenterebbe il mondo nell'ideologia neoplatonica secondo il seguente schema, quindi Venere è l'Humanitas, ovvero le attività spirituali dell'uomo, degli esseri umani, poi abbiamo le tre grazie, che sono, diciamo così, la fase operativa dell'Humanitas, quindi le attività materiali degli esseri umani, poi abbiamo Mercurio, che rappresenta la ragione, che quindi guida le azioni dell'uomo allontanando le nubi della passione e dell'intemperanza, e infine abbiamo il gruppo composto da Zefiro, Cloris e Flora, che rappresentano la primavera, simbolo della natura non tanto intesa come stagione dell'anno, ma come forza universale, ciclica e dal potere rigenerativo. Secondo il già menzionato critico dell'arte Erwin Panofsky e altri storici dell'arte la venere presente nella primavera di Botticelli, quindi vestita, sarebbe la venere celeste, simbolo dell'amore spirituale che spinge l'uomo verso l'ascesi mistica, mentre la venere della nascita di venere raffigurerebbe la venere terrena, quindi è nuda, simbolo dell'istintualità e della passione che ricacciano gli uomini appunto verso il basso, verso il mondo terreno. Sempre dal punto di vista dell'interpretazione filosofica le tre grazie sono state interpretate in vari modi, alcuni sostengono si tratti dei tre aspetti dell'amore descritti dallo stesso Marsilioficino, quindi a sinistra la volutà, la voluptas, dalla capigliatura ribelle, la castità o castitas al centro, dallo sguardo malinconico e dall'atteggiamento introverso e infine a destra la bellezza, quindi pulcritudo, con al collo una collana da cui appunto pende un elegante gioiello e verso la quale, quindi verso questa grazia, sembra stare per scoccare la freccia di cupido e lo vediamo di nuovo meglio qui nella immagine appunto dell'immagine totale completa del dipinto. Bene, due parole adesso sullo stile, quindi in questa meravigliosa opera sono presenti alcune caratteristiche stilistiche tipiche dell'arte di Botticelli, in particolar modo la ricerca di bellezza ideale e di armonia emblematiche dell'umanesimo che si manifesta appunto questa ricerca di bellezza e armonia si manifesta nelle pose sinuose dei personaggi, nei loro gesti armoniosi e nei loro visi e corpi perfetti. La scena è caratterizzata da un ritmo equilibrato che inizia come abbiamo già detto più volte con zefiro sulla destra e si esaurisce all'estrema sinistra nel gesto anch'esso morbido armonioso delicato di mercurio. L'ondeggiamento di queste figure è stato definito da molti critici come musicale. L'attenzione di Botticelli è focalizzata principalmente sulla descrizione dei personaggi ma in secondo luogo anche sulle specie vegetali che appaiono accuratamente studiate forse anche dal vero sull'esempio di Leonardo da Vinci che in quegli anni era già un artista affermato. Come sempre nelle opere di Botticelli minore cura è invece riservata allo sfondo in questo caso fatto di alberi e arbusti sfondo che appare scuro e compatto. Come osserviamo in altre opere dell'epoca il verde usato doveva originariamente essere più brillante ma col tempo si è ossidato prendendo tonalità più scure. Le figure presenti nell'opera spiccano con nitidezza sullo sfondo scuro con una spazialità sostanzialmente piatta o comunque poco accennata in altre parole direi io ignorante con una scarsa tridimensionalità come appunto accadeva negli arazzi cosa che è coerente con la crisi degli ideali prospettici di quegli anni che avrà il suo culmine a fine secolo e successivamente si vedrà anche nell'arte del XVI secolo caratterizzata infatti da un più libero inserimento delle figure nello spazio concludiamo con una notazione sulla tecnica utilizzata da Botticelli quindi come abbiamo già accennato l'opera è una tempera su tavola e questa tecnica consisteva nell'accurata sistemazione di assi di notevoli dimensioni che una volta unite tra loro formavano appunto il supporto su cui l'artista dipingeva quindi su questo supporto Botticelli stende prima una preparazione di beige chiaro dove dipingerà le figure e infine una base nera per la vegetazione su queste due basi quindi beige e nera stenderà poi la colorazione a tempera in strati successivi abbiamo la fortuna di avere questa meraviglia in Italia come già detto il museo degli uffizi di Firenze quindi quando finirà tutto questo dramma del coronavirus avremo un'occasione fantastica per tirare fuori il naso di casa e magari recarci agli uffizi a Firenze a vedere questa e molte altre opere meravigliose appunto presenti in quel museo io ci sono stato qualche anno fa non ricordo praticamente nulla purtroppo poco ci ritornerò sicuramente e visto che come ho detto abbiamo appunto la fortuna di averla quasi per tutti diciamo così a pochi passi da casa ecco approfittiamone e andiamo a visitare quanto prima quando possibile il museo degli uffizi bene questo è tutto come sempre vi ringrazio per la visione ciao a tutti e alla prossima ciao a tutti